Ciao ragazzi, abbiamo visto Fantastic Four e Fantastici Quattro, questo reboot criticatissimo in America di Josh Trank, bollato come il cinecomic, quasi come il cinecomic peggiore di sempre. Purtroppo è la verità, noi non siamo così cattivi ma il film fallisce su tutta la linea e adesso vi spieghiamo in 5 motivi il perché. Il primo, Ben Grimm, allora alias la cosa. Partiamo da lui perché è il personaggio a cui siamo sempre stati più affezionati e qui invece viene relegato, interpretato da Jamie Bell, viene relegato a una sorta di guardia del corpo di Reed Richards che poi viene scomparo a un certo punto dalla scena per poi ricomparire nel momento più sfigato della situazione, ossia quando i nostri decidono di andare nella endzone, nella dimensione negativa, dove poi succede il patatrack e quindi acquisiscono i loro poteri seguito appunto di un incidente di percorso, non ve lo svegliamo ma potete immaginare che cosa succeda. Quindi io gli darei un voto 5, più di stima ma in realtà è abbastanza, è costruito molto male. Secondo punto che non funziona purtroppo è Reed Richards. Allora, Miles Teller capisco che dopo gli assoli di batteria di Whiplash cercassi magari un ruolo un pochino più vicino al blockbust della situazione, dato che comunque anche già in Divergent aveva spiegato di averlo accettato soprattutto per soldi. Ma qui, insomma, il leader dei Fantastici 4 sembra praticamente rubber di One Piece, insomma, è un uomo di gomma che si allunga e si accorcia praticamente a piacimento, anche gli effetti speciali non gli rendono giustizia e fa abbastanza, lascia abbastanza desiderare. C'è soprattutto una scena che sembra praticamente un mollusco senza spina dorsale, ma, insomma, già questo fa abbastanza ridere. Terzo punto negativo, purtroppo anche qui il Dottor Doom. E voi direte, ma come? Eh sì, la Nemesi dei Fantastici 4, il villain per eccellenza più conosciuto, viene ridotto a una sorta di uomo di latta con la criptonite, praticamente con dei tatuaggi di criptonite fluorescente sul corpo. La Genesi, comunque è abbastanza spettacolare perché viene praticamente assorbito dall'energia della Endzone per praticamente essere tenuto in vita proprio da tutta questa forza. Sviluppa dei poteri clamorosi ma che comunque, insomma, vengono messi in scena in modo anche abbastanza banale ed elementare. Quindi io direi voto zero a purtroppo al Dottor Destino. E qui entra in gioco appunto il quarto il quarto punto, ossia la scrittura. Simon Kinberg, che ricordiamo tutti comunque è stato lo sceneggiatore anche della saga di X-Men e anche di X-Men giorni di futuro passato, qui è anche produttore. Ci chiediamo che cacchio le è successo? Probabilmente le avrebbe avuto qualsiasi cosa il giorno prima o la notte stessa in cui ha redatto questo script. Fa acqua da tutte le parti, c'è una prima parte che mi vira più sullo sci-fi e più sul dramma, sul realista, per poi passare a una seconda parte in cui il ritmo accelera in modo anche abbastanza clamoroso ed eccessivo perché tutti i conflitti che appunto erano da risolvere tra i personaggi vengono appunto risolti in tempo zero. Quindi insomma non ha funzionato, c'è molto poco equilibrio. La scrittura di Simon Kinberg, voto 5, anzi 4 al 5 semplicemente perché immaginiamo che prima di scrivere questo film si è divertito tantissimo con l'alcol. Ultimo punto è il finale, appunto come già preannunciato prima il finale non funziona, tutto troppo affrettato, lo scontro con il Dottor Destino si risolve praticamente grazie a una sola battuta, ossia in 4 siamo più forti e quindi praticamente poi lo attaccano in massa tra l'altro anche senza un piano così clamoroso e il povero Dottor Destino si ritrova sconfitto in un Amen così comunque come era entrato in scena e i nostri Fantastici 4, vabbè ragazzi, decidono il proprio nome. Il film purtroppo, mi dispiace ma è uno spoiler, ma relativo, finisce così. Il finale, voto 3, non puoi concludere un cinecomic in questo modo. Ci sarà un sequel sì, la Fox lo farà, non sappiamo perché, speriamo che insomma possa migliorare in un certo senso, almeno probabilmente lo farà Bryan Singer, almeno le ultime voci di corridoio dicevano che potrebbe essere lui a prendere proprio in mano le chiavi dell'universo supereroistico Fox, vediamo. Comunque purtroppo, detto questo, viva Lanterna Verde. Grazie a tutti.